La pesciata è una piazza di distrezzi. Sì, va bene tutto, però è la pesciata per la pesciata. Quanto è che è la pesciata dentro il bancone, è la pesciata per la piazza? No, no. Siccome io tutte le sere, tutte le sere, devo controllare gli sceni, allora la pesciata la prende, una la fa lui, una la fa lui, una la fa lui, una la fa lui. Io sclero, non mi puoi dire niente, non mi puoi dire niente, non mi puoi dire niente. Puoi prendere l'indicidetto, amico, puoi prendere l'indicidetto, scusate per noi. Grazie. 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 Grazie.